signor buongiorno buongiorno già con me signor ci siamo eh si sono fucati e l'oluro io come la vostra è venuta la signora mia quella è una sandoma da ieri sera che non si è voluto muovere fuori la porta della stanza eletta come si possa la moglie Gesù ma quanto è affezionata e la signora vostra moglie che dice? eh signora mia è tutta nervosa è tutta preoccupata sta accostita quando è tornata dal mago si è stata domani che casetto ho saputo? eh quello lo diceva così signor voi continuate a venire da me per sapere se fate il maschio e non lo volete capire che se fate il maschio muore il padre voi che dici? eh oh ma che cosa si dice? eh e me l'ha confermata pure a me e voi capirete la poverella si preoccupa per me eh si capisce mbè quello ci tiene alla vostra salute e ne potesse far meno signora mia queste cose non ci credo mbè ognuno pensa in una maniera signora ma perché facete sempre mbè? è un modo di fare non ci fate caso ah ma crederebbe oh Giacomì sapete che sto pensando che a certi volte i maghi dicono la verità signora mi facete rilasciare la pacienza? no io si possa poi non stare io tranquillo e alle macrici che dici? sta più preoccupata di mia moglie eh già perché dice che lei ci crede alle profezie dei maghi che dici ocumbare? che dici ocumbare? eh ma giurito il povero mi sta aiutato ancora a fare una sedia che uomo che uomo signora mia che affezione beh ma vi da credere eh non ho mai visto un uomo così affezionato ma Amorocelo signora mia quello è peggio di un fratello don Giacomì, don Giacomì currite rinta ma con manierette che ci siamo ci siamo? signora scusate permettete abbiate pazienza fate auguri don Giacomì e fateci sapere cosa è buono io darlo subito scusate fate fate lui è lusinetta, lusinetta è un cumbare che dici? e chi ne capisce niente signora mia? ora si asciutta rinta la stanza e trammava tutto quanto e con una fila di voce marito russi chiamiamo il prego che è successo? lusinetta, lusinetta currite rinta la mano stai spettando a te signora signora ci siamo ha fatto mascholo oh mascholo, oh Gesù io ho deciso così e poi non mi avete sentito una bellezza signora, una bellezza non mi sono mai sentito meglio che ora ma io ve lo ha giurito i temi mago non esistono sono tutte fesserie con Giacomì, con Giacomì currite rinta che sta? quello che vuoi vittoria è stata dall'emozione che hai sbattuto le facciandarr e non gli hai segnet di vita no, tu che stai dicendo? oh mamma mia mamma mia che dice signora voi avete sentito? povero come si fosse il suo padre e che hai detto? in Giacomì, currite, in me currite, in me in ben suo fatti e in ben attacchi a nerva signora, quando può te faccia dicendo che non hai detto in me Grazie a tutti.